Io ero piccolino, avevo sei anni e mia mamma all'epoca credo ne avesse quasi 30, 30 anni. Però per me era un gioco. La mamma se mi dice andiamo anche, non so, all'inferno io con mia mamma ci vado. Io avevo un anno e mezzo, quando è venuto a mancare mio papà? Quindi per me la mamma era tutto. Da Tangeri mia mamma si è imbarcata nei famosi barconi che ci raccontano oggi sui telegiornali. Per me era un gioco, era un divertimento, non era una sofferenza, non mi creava paura. Figurati se potevo avere paura di un viaggio in cui era mia mamma a dirmi vieni con me. Per lei sicuramente non era un'esperienza così facile, per me è un sogno, no? Era come dire andiamo alle ciostre, io sapevo che dovevo salire con la mamma e poi alla fine del viaggio ci sarebbe stato il divertimento.